Il soldato, scoperto disertore, verrà giustiziato con la simbolica morte per impiccagione. Un, due, tre. Tanti auguri a te! Tanti auguri. Marie ha scritto una canzone per il compleanno. Come merda di piccione io casco sulla folla, di giorno leggo Freud, di notte sniffo colla. No, belle però. Questa è casa mia, ci sei entrata come un ladro. Oh! Zitta! Ma voi siete matti, tutte e due. Oh! Cretino! Brozzo! Mille euro gli erano bene! Per quale cazzo di motivo gli eri detto? Ma vuoi sapere? Sì! E state vencite, no? Shhh! Io ho la profonda necessità di una bomba. Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo mi hai fatto? Ma che cazzo mi hai fatto? Ma che cazzo è? 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 Ma che cazzo è?